Sembra quasi che Gary Vaynerchuk abbia un superpotere. Oltre ad essere un investitore di successo, sembra che abbia l'abilità per dire qualsiasi cosa voglia e fare in modo che le persone lo amino per questo. Prendete questo esempio con Seth Godin. Sono nel mezzo di una conversazione quando Gary dice questo. E dopo soli pochi minuti... Eppure, dodici minuti dopo, tutto perdonato. E questo non è un incidente isolato. In ogni intervista che ho visto con Gary Vee, lui fa sempre una o due cose che sembrano far infuriare i suoi ospiti. La prima è che l'interrompe. E Ray qui è visibilmente frustrato, come notano anche gli spettatori, ma alla fine sorride e si diverte. E la seconda è che Gary dirà cose che non vi piaceranno. Eppure, Gary è estremamente popolare tra gli imprenditori di successo come Seth Godin, Tim Ferriss e Tony Robbins. Quindi la domanda è, cosa fa Gary per fare in modo che per le persone sia quasi impossibile rimanere arrabbiato con lui? E quali sono le cose che potete prendere da lui e applicare nella vostra vita, così da lasciare una bella immagine di voi, anche se le offendete inadvertitamente? Cominciamo guardando quella prima clip con Seth Godin. Mette il suo braccio intorno a Seth in un grosso gesto di amicizia. Eccolo un altro esempio. Appena si accorge che Seth sta passando dalle battute amichevoli ad una vera frustrazione, si avvicina e lo tocca. Questo è davvero importante perché il contatto costruisce una connessione e può essere usato per comunicare non verbalmente. E Gary lo fa con tutti, dagli impiegati alle celebrità. Questa clip con Tony Robbins è di un minuto prima che il video cominci. Gary lo tocca all'inizio e spesso, e soprattutto quando si accorge di aver toccato un tasto dolente. La seconda cosa che Gary fa incredibilmente bene è complimentarsi con le persone. Eccolo qui mentre presenta Seth. Notate il contatto fisico e il complimento. A Gary piace anche mischiare i suoi complimenti con l'umorismo, per apparire genuino senza sembrare un lecchino. L'ha fatto nell'ultima clip citando quella persona della nazione di Viner, che sarebbero i suoi fan, che non conosce Seth. E qui eccolo con Tony Robbins facendogli un grosso complimento e poi facendolo ridere immediatamente. All'inizio della conversazione sta creando un sentimento di positività e calore attraverso il tocco, i complimenti e l'umorismo. Questo gli è davvero d'aiuto quando fa un errore e fa qualcosa che fa arrabbiare Seth. Perché il suo uso dell'umorismo e il tocco immediato calmano la situazione e ricordano quei momenti all'inizio dell'interazione quando ha costruito molto bene la positività. Questo è il valore di una fantastica prima impressione e anche quando non andrete benissimo nelle situazioni successive avrete il beneficio del dubbio grazie alla prima impressione che avete fatto. In quelle clip in realtà Gary sta costruendo solo due delle quattro emozioni che vi portano a fare delle prime impressioni fantastiche. Come vi abbiamo già parlato nel video bonus sulle quattro emozioni da suscitare nell'ordine corretto per fare un'ottima prima impressione. Vale anche la pena notare che nel caso di Gary non limita quei complimenti solo alle celebrità, è carino con i suoi fan e anche con i suoi impiegati. C'è una terza cosa su Gary che fa in modo che le persone lo perdonino più facilmente per i suoi errori ed è perché è sempre autentico. Gary è una forza della natura, parla velocemente, ha un sacco di energie, è diretto, è onesto e tutto questo a prescindere dal fatto che vi piaccia o meno quello che dice. Alcuni youtubers potrebbero farsi odiare se si rivolgessero ai loro spettatori in quel modo, ma se seguite Gary da qualche tempo, allora già sapete che lui è disposto a dire qualcosa che potrebbe non piacere se crede che sia la verità. Quindi quando dice qualcosa che non piace o dice un sacco di parolacce, qualcuno potrebbe anche essere disturbato per un momento, ma non si arrabbia davvero con lui perché se lo aspetta. A volte nella vita non sono per forza le circostanze che dettano la vostra reazione, ma come la realtà corrisponde o si scontra con le vostre aspettative. Quindi quando dice a Seth Godin che mette insieme la meditazione con gli psichici, all'inizio lo fa arrabbiare, ma poi lo perdona facilmente e non ci rimugina. Cos'altro vi aspettereste? È solo Gary che fa Gary. Vale anche la pena dire che il suo personaggio da dico solo quello che penso e non mi interessa di cosa ne pensate voi, gli conferisce un po' l'atteggiamento di Tyler di Fight Club. Molte persone apprezzano Gary solo per il fatto di sembrare così reale. Lo ammirano non necessariamente per quello che sta dicendo in quel momento, ma per il semplice fatto che non cambia mai la sua personalità per stare meglio in una situazione. È sempre se stesso, anche se significa dire qualcosa che non vi piacerebbe, dire parolacce o insultarvi direttamente. Non è che ci sia qualche trucco per comportarsi così. Si tratta di un'attrazione nell'essere sempre se stessi senza pensare a quello che pensano le persone. Viene ammirato semplicemente perché un sacco di noi desiderano abbandonare il peso di dare attenzione a ciò che pensano gli altri. Nel dettaglio questa è anche la cosa esatta che ha il potenziale per renderlo odioso. Se questo fosse il modo in cui tratta il suo cameraman ogni volta, non funzionerebbe. Certo, parte della sua personalità gli richiede di essere incredibilmente diretto, ma è mischiato anche con una personalità umoristica di calore fisico e gentile. Se guardate Gary, capite che vuole fare davvero del bene e vuole occuparsi delle persone. Eccolo che parla alla stessa persona in un video diverso. E a causa del suo essere così diretto e onesto nel dare dei risponsi negativi a qualcosa, le persone si fidano del fatto che Gary è genuino quando è positivo. Quando dice che non gliene frega niente è così, e quando dice che fate parte della famiglia e che vi sostiene è così. Questa è una parte importante di ciò che permette alle persone di andare oltre i suoi momenti potenzialmente difficili. Arriva da un'attitudine d'amore e cerca di aiutare le persone. Ecco un grosso esempio di Gary che si ferma con qualcuno mentre dice qualcosa che potrebbe davvero farlo arrabbiare. Ma questa non è l'intera conversazione, dà anche al ragazzo un sacco di consigli davvero specifici per aiutarlo ad avere successo e fissa un incontro di 10 minuti, anzi 20 minuti così da poterlo aiutare davvero. E Gary così fornisce al ragazzo un percorso da seguire per quello che gli ha detto alla fine ed era quello l'obiettivo dell'incontro. Potrebbe frustrarvi interrompendovi o dicendo qualcosa che non vi piace per niente, ma alla fine le persone continueranno ad amarlo perché è una persona felice, carismatica e vuole dare un sacco di valore alle altre persone e questa è una formula vincente che potete rubare anche voi. Per questo video è tutto, vi ricordo che d'ora in poi pubblicheremo i nostri video il martedì alle 19 e come richiesto da voi il venerdì alle 13. Se vi è piaciuto questo video mettete un like e se volete vedere più video come questo attivate la campanella delle notifiche altrimenti YouTube potrebbe non mostrarvi i nostri video nella home. Ci vediamo martedì con un video sul linguaggio fisico. Ciao ragazzi! Ciao!